Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova variation Oggi nuova variation a Spider-Man Far From Anche se non è il film è già uscito Far From Home Far From Home Si dimenticano un pezzettino, lontano da casa Minensi è l'interno di Spider-Man Quindi le ultime due variation su questo film Spettacolare Via Minensi è l'interno di più Quindi potrà parlare a lui Questo qua è Spider-Man Con una nuova tutina Qua sta già combattendo Questo me lo conosci Cosa? Spider-Man Far From Home Ah, Iron Man Iron Man Iron Man Uno dei miei personaggi preferiti Ragazzi è Venom Cioè, Venom Tanta roba Cosa ne pensi, mi danno di Venom Ma si, è un lucertolone Un lucertolone con la lingua lunga La lingua più forcuta Qua c'è anche il nostro eroe che sta cercando di salvare il mondo Come sempre Come sempre Il 10 luglio al cinema Noi siamo al 10 agosto e è passato già un mese Ok Contiene degli spoiler importanti Se avete visto invece già Avengers Endgame Possiamo guardarlo L'avete visto? Avengers Endgame Qua sta anche Qui c'è un Questo tizio chi è? Lo conosci? No, sarà suo capo Non lo so Ah Adesso abbiamo tolto l'audo Questo ragazzo che è stato appunto la ranga Ma che bella tutina che ha La voglio anch'io È bellissima, secondo me Chi ha inventato sto Qual è la tutta più bella secondo voi? Di quale film? Poi la tutta cambia sempre, no? Sì Sì, nel primo vabbè Ok C'aveva lui Oh, bella, bella, bella Guarda di Gemmine Spiderman nero anche Sì Poi Spasta Nero, nero, basta Preferite Spiderman rosso o Spiderman nero? Wow, quello era un jet Bellissimo Ambientato a Venezia anche Nella nostra bellissima Venezia Wow, ragazzi Questa è la grafica però Bellissima Buono sabbia Ecco, buono sabbia ragazzi Buono sabbia Ok Bellissimo Sì, questo qua lo conosci? Sembrava l'uomo sabbia infuocato però Wow Bellissimo Più supereroi Per combattere il nemico Non c'era anche la gatta nera Qua? No Non mi sembrava Questo no Un riferino Se non mi sbaglio Io sono rimasto dietro a me luce L'autobus che esplode Eh Divisci il gioco Che giocavi tu C'era Sì Ma è difficile Qualcosa Guarda tu lì che crolla L'hanno fatta vedere 3000 volte Sì, poi sono sempre Tutti quasi uguali Sto 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 Corri Corri, corri, corri Che ti si brucia la tuta Spider and fall from home Bellissima Questi personaggi Si conosci? Eh Saranno i suoi colleghi di studio Non lo so Ok Dai 10 luglio al cinema Fermati Allora Fermati lì E Andiamo a prendere l'altra Andiamo a prendere l'altra E cammina ancora finita No Hai sbagliato Allora Non c'è Mettere la cosa No Dai niente Posso vedere Scusami Allora Niente Mettiamo un attimo In pausa Ok Ci siamo L'abbiamo trovato Abbiamo sbagliato Sulla prima Pagine E basta Quello Lo sta facendo Qual è l'inserviente Wow Wow Ma che bello Scarpine Poverissima Ragazzi Wow Adesso vediamo Eccolo 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 Chi è Eccolo Finto Spider-man Sicuramente Spider-man dei poveri Che idiota Giappone 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 Adoro Adoro Questi qua Quei due sceni Quei l'abbiamo visto Anche prima Beh la gondola che va in casa No però No Qualcosa cambia Neanche questa C'è L'uomo nero Che ha paura Dell'uomo nero Avete paura Di buio Che spada Mi fa affrontare La barca Penso che non sia Non abbia mai preso Una velocità Come quella Dopo con la botta Eh C'è una ragazza E' a cui fa il filo Eh Sì Una giapponesina E gli fa vedere Quello che sa fare Poi figuriamoci C'è Quello chi era E' sempre il solito mostro No E' quello che va conosciuto giù Wow C'è ma io voglio andare a vedere Venizia se è realmente Tutto distrutto così No Avranno girato dalle scene Alcune là magari Però dopo le altre Saranno tutte Come si chiamano Il loro laboratorio Insomma Il loro Questo qui tra l'altro È un giapponese Di tra l'altro Questo è un giapponese Sì Mi sembra più un ladro Più che spiderman Spiderman Il ladro che Il ladro gentiluomo Il ladro Il ladro ragno Ok Questa è finita ragazzi Cos'è sta roba Volevo citare Sì Volevo citare Ragazzi Noi vi salutiamo Se la version vi è piaciuta Lasciate un like Fateci sapere cosa ne pensate E noi ci vediamo Un tasto in vita Ciao ragazzi Commentate Hashtag Etoro Che non so che roba sia Comunque sappiate che Luca e Marco Usano Etoro Per investire Nei mercati finanziari Va bene Ok Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie.